in questo ultimo periodo vista la quarantena ho avuto modo di riflettere se quello che stavo facendo della mia vita fosse quello che volevo veramente i giorni passavano e pensavo quanto tempo stavo sprecando e ho messo tutto in dubbio quando sono rientrato nella vita quotidiana la mia solita routine la sentivo stretta e pensavo che sarei dovuto partire e liberarmi da tutti i vicoli che la nostra vita ci impone dal nulla è uscita la possibilità di fare un weekend fuori con gli amici a pochi chilometri da casa oggi penso di aver capito quello che voglio veramente non è tanto dove andiamo ma è con chi andiamo e cosa facciamo per sentirsi liberi e non richiusi nella solita routine no 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti